Premondo Fabrizio, oggi sicuramente Consiglio Comunale, ma retta in giunta. Cosa sta accadendo a Disernia? Purtroppo è l'andamento che da un anno e mezzo, da quando si è insediata questa nuova amministrazione, non si fa altro di parlare, invece di risolvere i problemi dell'agenda e quantomeno affrontarli. Parliamo prima del Presidente del Consiglio che ha votato contro la propria maggioranza e quindi deve essere rimosso. Poi capigruppo che si dimettono perché il loro Deus ex macchina politico non ha rimosso tal soggetto o meno. La gente stufa, Disernia è in una crisi irreversibile, in questo momento c'è altro a cui pensare, non a queste beghe politiche. La città di Disernia merita ben altro e sicuramente non merita queste amministrazioni, soprattutto questa giunta. Assessori che fanno i fenomeni solo sui social network, invece di affrontare i problemi, fanno i fenomeni con uscite poco ortodosse e poco carine, a livello nazionale e a livello locale. Ora bassa sinceramente che il sindaco, che dovrebbe essere loro pastore, richiami un po' le proprie pecorelle e devono iniziare a capire che non stanno gestendo una cantina sociale e quindi devono assumersi le loro responsabilità e iniziare a pensare ai Sernia e ai suoi problemi che purtroppo sono numerosi. Il Consiglio Comunale di oggi pomeriggio? Consiglio, io purtroppo per motivi politici e di partito sarò a Roma e non potrò essere presente, però invece di affrontare i problemi, se leggete l'ordine del giorno non ci sono i problemi da risolvere ma ci sono le beghe tra i vari assessori, tra la maggioranza e tra i vari consiglieri. Questa è la cosa grave, i Sernia non merita, merita ben altro, essendo capologo di provincia che avendo una storia merita altro.